Buongiorno Deido, oggi si torna al passato e mi sono scritto i riassunti degli articoli che voglio raccontarvi oggi, le news che voglio raccontarvi oggi perché ho poco tempo e non ho voglia e tempo di stare a riguardare, a rimontare correttamente le castronerie che dico e che poi taglio, e sono tante e quindi per avere più flusso e più ordine me le sono scritte, non vi lamentate, per favore, ho dovuto fare così. Spero comunque che poi andate ad approfondire, perché gli articoli che citerò comunque rimango e ve li faccio vedere e lì ci sono gli approfondimenti veri se vi interessano, ecco le news che vi citerò e credo che dovrebbero interessarvi in quanto parte di questo mondo, di questo settore, poi andate negli articoli e approfondite. Partirei subitissimo con The Register e un articolo che si intitola in modo piuttosto anche ironico, come è nello stile di The Register, si intitola l'oscura internet boutique Amazon cita la Unione Europea perché l'ha denominata Very Large Online Platform, sapete che Very Large Online Platform o VLOP si può tradurre in italiano come piattaforme online molto grandi, sono tutte quelle piattaforme che l'Unione Europea ha identificato come grossi soggetti che devono garantire agli utenti una maggiore protezione eccetera. Ebbene Amazon ha fatto causa all'UE per essere stata inclusa in questa lista delle VLOP, le piattaforme online molto grandi secondo appunto queste nuove norme dell'Unione Europea che si chiamano peraltro sono incluse all'interno del Digital Services Act, DSA. Il DSA impone alle VLOP maggiori responsabilità per proteggere gli utenti da contenuti e prodotti illegali, discorsi d'odio ed altri rischi sociali. Bene Amazon, come in modo ironico fa notare The Register, sostiene di non essere una VLOP, una grande piattaforma online perché il suo reddito principale proviene dalla vendita di prodotti e non dalla pubblicità e che altre grandi aziende europee non sono state designate come tale. Lui naturalmente ha respinto le argomentazioni di Amazon e ha detto che la causa non sospende l'obbligo di conformarsi alle regole del DSA entro fine agosto. Poi il caso sarà deciso dalla Corte Europea, la Corte Generale dell'UE, che non ha ancora fissato una data per l'udienza. E nell'articolo appunto si va ad approfondire anche quali sono gli altri VLOP, le altre grandi piattaforme online, per esempio Zalando, oppure Aliexpress o YouTube, ovviamente Facebook e Twitter, insomma tutti quelli che hanno una grande base di utenti e una grande base di contenuti. E poi si va a definire quali sono i punti esattamente della norma che definiscono che cos'è una VLOP e quali sono poi i... a cosa devono conformarsi, insomma quali sono i doveri legali di queste piattaforme. E' molto interessante, lo trovo molto interessante, trovo molto bello e ficcante l'articolo di The Register, soprattutto il titolo di The Register. Ah, peraltro vi consiglio anche, se volete approfondire sempre questo argomento, l'articolo di Arstechnica invece, che si intitola in modo molto più plain, che Amazon sostiene di non essere una VLOP per evadere le regole dell'Unione Europea e anche nell'articolo si fa appunto riferimento a che cos'è questa legislazione, quali sono gli altri soggetti coinvolti, eccetera. Quindi se volete approfondire, anche Arstechnica gli ha dedicato un bell'articolo. Poi, rimango nell'ambito delle leggi dell'Unione Europea e delle Big Tech, perché c'è questo articolo, prendo ancora da Arstechnica, che si intitola Le Big Tech possono trasferire i dati dei cittadini europei negli Stati Uniti in una vittoria per Facebook e Google. Ora, ne abbiamo già parlato, quindi vi ricordate sicuramente quali sono tutte le magagne del trasferimento dei dati dall'Unione Europea agli Stati Uniti, che coinvolge un po' tutte le Big Tech e soprattutto quelle che hanno sede, sono nate negli Stati Uniti. E vi ricordate anche che Meta era stata multata con una multa storica e gigantesca appunto per aver effettuato trasferimento dei dati dei cittadini europei mentre il GDPR era in vigore, quindi non essendo compliant con il GDPR. E Meta stessa aveva dichiarato di stare aspettando questa decisione per appunto vedere o di ritardare il momento del pagamento o dell'essere compliant con questa norma o comunque addirittura evadere e non pagare, non rispondere di queste violazioni. Ebbene, in questo articolo si dice che appunto la Commissione Europea ha approvato il trasferimento dei dati personali dalla UE alle aziende statunitensi ritenendo che gli USA offrano un livello adeguato di protezione dei dati. Cosa vuol dire questo? Ovviamente che ci saranno stati degli accordi più o meno sotto banco per far rientrare il framework legislativo attualmente in vigore negli Stati Uniti per essere un pochino più vicino a quelli che sono i dettami del GDPR. E poi prosegue questo articolo, la decisione è una vittoria per le società tecnologiche come appunto Meta e Google che potranno continuare a operare senza interruzioni o impatti sugli utenti. Questa decisione prevede delle garanzie vincolanti per limitare l'accesso dei servizi di intelligence statunitensi ai dati dell'UE e per garantire il diritto di ricorso degli individui dell'UE. E questa decisione è attesa da una sfida legale da parte degli attivisti per la privacy europei che sostengono che gli USA dovrebbero modificare le loro leggi sulla sorveglianza per rispettare i diritti fondamentali dell'UE. E sapete che era questo appunto uno dei problemi. Anche The Verge si è occupato di questa vicenda titolando che i social network possono continuare a immagazzinare, a trasferire i dati dei cittadini UE negli Stati Uniti con questo nuovo accordo, questo nuovo agreement. Quindi l'articolo va ad approfondire ulteriormente. Ci sono anche delle interviste interessanti se vi interessa. E' interessante anche il punto di vista di D-Day che invece è appunto testata italiana. Ed è interessante, l'ho ritenuto interessante su questo fatto perché lo prende invece, cioè inizia da un altro punto di vista. Cioè dà più focus su un'altra cosa. Cioè sul fatto che i cittadini, cioè che le imprese USA debbano cancellare i dati degli utenti UE che non usano o che gli viene chiesto di cancellare. Quindi questa sarebbe la base dell'accordo. Infatti dice l'articolo che la Commissione Europea appunto ha adottato questa decisione che riconosce il livello di protezione dei dati garantito dal quadro statunitense. E quest'accordo prevede che le imprese e le pubbliche amministrazioni statunitense cancellino i dati degli utenti europei che non usano più. E li usino in modo proporzionato allo scopo per cui sono stati raccolti e prosegue. L'accordo prevede la possibilità per i cittadini europei di rivolgersi a un tribunale di riesame in caso di violazione dei loro diritti da parte di soggetti statunitensi. Questo naturalmente, che era citato anche da Astecnica, è probabilmente parte di questo agreement, di questo accordo che ha fatto sì che si trovasse appunto una quadra. E niente, questo naturalmente poi fa seguito anche a quell'invalidamento del Privacy Shield, se ne avevamo parlato proprio nella news della denuncia contro Meta, però naturalmente questo accordo sarà anche, come sostiene, come ricorda D-Day, sarà parte, sarà oggetto di riesami periodici da parte della Commissione Europea in collaborazione con le autorità europee e statunitensi competenti. Questo è oggi legalese, giornata legale, volevo chiudere invece con una cosa triste, ma non legale, ed è questo. È un articolo che trovate su Gamehistory.org che è la Video Game History Foundation. È molto interessante, molto triste anche. Si intitola 87% Missing, cioè Missing, scomparsi, no? 87%. È un articolo che si intitola La sparizione dei videogiochi classici. Bene, la Video Game History Foundation, in collaborazione con la Software Preservation Network, hanno condotto questo primo studio sulla disponibilità commerciale dei videogiochi classici, che sono software, ovviamente, e i risultati sono drammatici. L'87% dei videogiochi classici rilasciati negli Stati Uniti è a rischio di estinzione, di sparizione. E l'industria videoludica, che è rappresentata tra lobby, appunto, della Entertainment Software Association, ha sostenuto che preserva adeguatamente la propria storia commercialmente e che ulteriori protezioni per le istituzioni di conservazione danneggerebbero il loro fatturato. Invece questo studio ha dimostrato il contrario. L'industria ha reso disponibile solo il 13% della sua storia e difficilmente questo migliorerà. E continua poi l'articolo le biblioteche e gli archivi dovrebbero poter preservare e condividere digitalmente i videogiochi, come fanno per altri tipi di media, come libri, film e audio. Ma le leggi sul diritto d'autore, obsolete, impediscono alle istituzioni come queste di svolgere il loro lavoro. Questo studio mira a ottenere esenzioni più ampie per le biblioteche e le organizzazioni che preservano i videogiochi, che attualmente sono molto più limitate rispetto alla loro capacità di preservare. Altri media. Il prossimo processo di regolamentazione sotto il Digital Millennium Copyright Act è previsto per il 2024. E questo naturalmente è molto triste. Perché effettivamente, cambiando, andando avanti con il progresso soprattutto dell'hardware, è sempre più complesso accedere ai software progettati per un hardware obsoleto. Quindi servono investimenti, servono fondi, servono tecnologie per poterli preservare e per poterli fruire, per potervi accedere. Se le aziende che detengono i diritti non lo trovano commercialmente interessante, va da sé che non spenderanno questi soldi. Viceversa, se lo trovano commercialmente interessante, ecco, non li rilasceranno per i soggetti che invece si vorrebbero occupare di preservazione e divulgazione. Vedete tutti cosa sta succedendo nell'industria videoludica, per esempio con Nintendo, che periodicamente rioffre a pagamento l'accesso a suoi vecchi classici, non rimaneggiati, ma semplicemente resi disponibili sulle nuove console. E poi anche le altre aziende che impacchettano collezioni di vecchi giochi così come erano e li rivendono a un prezzo, diciamo, premium, rimonetizzando su software obsoleto. E fondamentalmente questo impedisce di accedere correttamente e di preservarli. E questo è molto interessante questo studio. Se vi interessa la storia dei videogiochi, la storia del software in realtà, ve lo consiglio. Per chiudere con una nota frizzante, croccante, perché non possiamo chiudere con la tristezza, chiudiamo con l'allegria, con questo articolo che si intitola Dopo 30 anni, Linux finalmente arriva al 3% di market share. L'articolo è apparso su Linux Siac, che non conoscevo, mea colpa, veramente un sito di news su Linux. Ebbene, qui c'è, in realtà non è neanche troppo ironico, no? Si va a prendere le statistiche di StatCounter e va a vedere che Linux effettivamente, ovviamente stiamo parlando di desktop, della diffusione degli sistemi operativi su desktop, Linux ha raggiunto il 3% di market share. Eccola qua, se vi andate sul link linkato dall'articolo su StatCounter, qua ci sono le statistiche di diffusione dei sistemi operativi. E vediamo quindi Windows saldamente in testa con il 68%, poi OS X al 21%, Chrome OS al 4%, poi un unknown, uno sconosciuto, al 3%, che è leggermente sopra a Linux, perché unknown è al 3.23%, mentre Linux ha il 3.08%. Sospetto che in mezzo all'unknown ci sia anche qualcosa di Linux, ma non viene fuori, non emerge da questa chart, e quindi Linux supera il 3% e siamo tutti molto contenti. Siamo molto contenti, naturalmente possiamo, anche quest'anno possiamo dirlo, possiamo finalmente dichiararlo, è l'anno di Linux su desktop. abbiamo raggiunto una quota considerevole di mercato e tra l'altro vorrei congratularmi anche, complimentarmi anche con FreeBSD, che ha raggiunto lo 0,01% e quindi, no, a parte scherzi, comunque è un sistema operativo che non ha una sua diffusione desktop, però era così. Curioso farvi vedere qua naturalmente su StatCounter, trovate tutte le statistiche dettagliate, potete esportarle, potete vedere esattamente come si distribuisce nel corso del tempo questa market share. E ho finito, basta, perché siamo arrivati alla fine, voglio chiudere con questa nota, c'è molto caldo, sono molto stanco, ho anche mal di schiena, ma non ve ne frego un cazzo, quindi grazie per avermi seguito fino a qui, noi probabilmente ci vediamo anche domani, se tutto va bene, mi devo tagliare i capelli, e grazie per avermi seguito, e niente, basta, alla prossima, e basta. Ciao.